Dove c'è unità Ciao, mi chiamo Maria Francesca, sono della scuola di Sant'Agata e ho comprato la picotta perché volevo fare che una bambina avesse una vita migliore. Spero che i bambini poveri abbiano acqua e giochi per giocare e il cibo, le cose fondamentali per vivere. E fanno un paradiso, e fanno un paradiso. Aieieieieia Matita, matita colorata, disegna se ti piace, su grandi terre bianche, il sogno della pace, il sogno della pace. Ieri a scuola abbiamo fatto dei compiti che dovevamo scrivere, dovevamo scrivere dei cartelloni. C'erano sempre degli argomenti e io ho scelto un argomento che c'era scritto che i bambini dovevano avere libertà. Volevo dire che questa mese è stata molto bella e al prossimo compleanno spero che sia migliore. Questa festa mi è piaciuta molto perché abbiamo festeggiato la festa di San Francesco ed è stata molto bella per me. La terra più abitabile per tutti i bambini e per noi Dove troverò il sorriso, dove il canto di gioia, dove troverò il mattino per svegliare la notte, poi troverò il mattino per la tua felicità. Matita, matita colorata, matita, matita, matita colorata, qui dove si passerà, Disegno più della terra, più libera più vera, più libera più vera. Fatita, fatita colorata, disegno al nuovo cielo, per sollevare il mondo dal mondo. Ah, alleluia, ah, alleluia. Aguri San Francesco! Aguri! Aguri! Tutti insieme noi vogliamo? Sì! E adesso io vi grido Unicef e poi vi gridate Uniti per i bambini, d'accordo? Unicef! Uniti per i bambini! Grazie a tutti i bambini, un applauso a San Francesco e a tutti voi! Grazie! 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 Grazie!